Sono tantissime le opere pubbliche che stiamo portando avanti su tutto il territorio comunale concentrandoci più sul centro storico di Mondolfo. Ci sono diverse opere pubbliche che stanno per partire alcune sono già partite. Il campo sportivo di via Fermi che sono iniziati i lavori e continueranno anche nelle prossime settimane in autunno si concluderanno. Inizieremo i lavori per quanto riguarda il bastione Sant'Anna, l'adeguamento sismico della scuola media Fermi, poi andiamo al cimitero, quindi ci sarà anche l'ampliamento del cimitero, quindi da autunno, da settembre partiremo con tutto quello che riguarda l'ampliamento, quindi il nuovo cimitero che si aggiungerà al vecchio cimitero. Sono all'incirca sui 4,5 milioni di euro e di opere pubbliche, quindi sul centro di Mondolfo. Mondolfo aveva bisogno. È uno dei borghi più belli d'Italia, in tanti vengono qui a visitare il borgo e rimangono stupiti, sorpresi della bellezza della piazza del comune, però c'era la necessità di intervenire su quelle che erano le strutture necessarie e fondamentali per dare servizio ai cittadini. Siamo davanti al bastione Sant'Anna, nel progetto è previsto il restauro e anche il miglioramento sismico, quindi la messa in sicurezza di uno dei luoghi più importanti di Mondolfo e la progettazione si occuperà il comune, stiamo andando avanti quindi con la progettazione per fare in modo di essere pronti per l'inizio dei lavori nel 2020. Qui siamo davanti alla nostra scuola media di Mondolfo, purtroppo ci siamo ritrovati senza verifiche sismiche, quindi noi la nostra amministrazione ha iniziato a farle, sulla base di questo siamo andati alla progettazione, quindi abbiamo iniziato il progetto di adeguamento sismico della scuola mediafermi, un investimento di un milione e 600 mila euro che metterà in sicurezza i nostri ragazzi che verranno spostati per il periodo, per gli anni dei lavori nella scuola elementare Moretti. Ci siamo ritrovati in una situazione di completa emergenza, erano rimasti soltanto sette loculi, quindi pochissimi loculi e quindi abbiamo iniziato ad attivarci proprio per sopperire a questa mancanza, abbiamo iniziato a costruire dei nuovi loculi qui nel vecchio cimitero dove lo spazio lo permetteva, ci saranno sia edicole che loculi e al momento i loculi sui 400 loculi. Oltre all'ampliamento del cimitero miglioreremo anche la viabilità, quindi l'obiettivo nostro è quello di realizzare una strada richiesta dai cittadini che collegherà il parcheggio qui a fianco del cimitero con Viale Vittorio Veneto.